Ciao a tutti, bentornati su Rosticine Kpop, io sono Erika e bentornati in una nuova puntata di Reaction sull'attacco dei giganti fatemi sapere nei commenti se per caso volete altre reaction di anime o se per caso volete che parlo di anime è comunque una cosa che mi interessa molto, non vedo solo l'attacco dei giganti o se volete chiacchierare qua sotto fatemelo sapere andiamo a vedere la puntata 6 e quindi andiamo Disgelo vediamo che si disgela papà di Eni sta a fare la pettinatura come Eren ho messo la copertina non solo mangio un gigante a casa sapevo Gabby splat 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 l'analogia è sbagliata non è Pixis ah questo ah giusto il comandante si il tizio del il tizio del ok bella non è lo sapevo ah Sì 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 Torniamo alla disperazione Già, questo simpaticone Ciao I titoli che spoilerano tutto Però è palese Eccoci qua anche dopo questa puntata Allora Nulla Lo scongelamento Il disindurimento Di Annie Me l'aspettavo Dato il titolo della puntata La scena di combattimento è stata bellissima Quella colonna sonora è stupenda Dopo me la vado a risentire Bellissima, bellissima Mi stava per scendere la cribuccia per Pixis Ma mi sono riuscita a trattenere E nulla Dobbiamo andare a vedere dove si va a parare Perché Ora come ora Stessa cosa della puntata di prima Siamo un po' Nella cacca E vabbè Comunque Alla prossima Ciao